Ciao a tutti, sono Marco e sono lo chef del ristorante Bontan di Poggia. Io con l'italiano sono messo il normale, anche in dialetto, meglio se vuoi dire dialetto. Guarda, con la cazzo, vado? Vai, vai. Oggi volevo parlare un po' delle cozze. Si prende la cozze dalla vaschetta. Facciamo questo lavoro qua, una volta che viene pulito. Vado? Vai, vai. Stingiamo la cozza, una parte verso l'alto, una parte verso il basso, in modo tale che cacci acqua. Sotto le dita lo spostamento. Così si infila la gran bet e il filo lo tieni così. E tagliamo. Ecco. Questa è bedda. E la vedi? È bianca colorata, i colori vivi. Questa è bedda. E ci sprucciamo un po' di su qua di limone, sopra. E chi dovrà mangiare si muore, si muore. Non so, la vuoi mangiare? Siccome ci piacciono le cozze, e quindi la puoi sempre mangiare. Avendo sempre la certezza che il mare si affronta. E vai. Vado? Vai, vai. Ciao a tutti. Questi sono gli amori dei milioni e milioni di piscatori. Questi sono gli amori.